E' stato arrestato con l'accusa di concussione in concorso ed associazione per delinquere finalizzata allo scambio elettorale politico mafioso. Alberto Gambino, consigliere regionale del PDL, nonché ex consigliere provinciale di Salerno ed ex sindaco di Pagani, è finito in manette insieme ad altre sei persone in seguito ad un'operazione dei carabinieri del comando provinciale di Salerno su disposizione della procura antimafia di Salerno. Gambino, assieme al presidente, al vicepresidente della Paganise Calcio e a due esponenti del clan camorristico attivo nell'agronocerino sarnese, Fezza, D'Aurea, Petrosino, secondo l'accusa avrebbe creato un sistema che con la complicità di politici locali e di livello regionale consentiva loro di gestire la pubblica amministrazione per controllare le principali attività economiche e imprenditoriali della zona. Alle ultime regionali Gambino è risultato tra i candidati più votati in assoluto, con oltre 27.000 voti nonostante le innumerevoli polemiche che accompagnarono la sua candidatura. L'ex sindaco di Pagani risultava infatti nella lista dei cosiddetti impresentabili perché condannato in primo grado in appello per peculato. Non ho notizie dell'indagine, la cosa che abbiamo sempre detto è piena collaborazione con gli inquirenti, ha detto Stefano Caldoro. Mi auguro che Gambino possa chiarire tutti gli aspetti contestati e determinare la sua estraneità ai fatti. Questo il mio aspicio e la mia speranza. Il presidente della regione, ribadendo di rimanere nello spirito garantista del nostro codice, ha aggiunto da una parte c'è grande disponibilità, attenzione e rispetto per l'azione della magistratura, dall'altro ha precisato. Rimaniamo garantisti. Grazie.